Che scempio, che scempio, che scempio, che scempio, che strazio, che scempio, che strazio, che schifo, mamma mia che schifo, non solo perdiamo il pass per i quarti, il campionato europeo è il 21 già eliminato i gironi ma siamo out anche dalle olo in via di 2024 di Parigi e se ci aggiungiamo già i due mondiali che abbiamo visti dal divano è palese che le cose non vanno il primo che a questo punto dovrebbe prendersi a sberle da solo è proprio il sottoscritto che qui dopo la partita giocata con la Francia ad attaccare l'arbitraggio perché non c'era stata equità attenzione quello che abbiamo visto in quella gara sicuramente e indubbiamente era qualcosa di inaccettabile però se 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 mogliamo alle prime difficoltà se se noi ci aggrappiamo come al solito ogni alibi prima di questa partita addirittura sentivo la parola biscotto ma noi ma noi ci biscottiamo da sole ma quale ma quale complotti ma quale 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 retropensieri quale quale retroscena quali forze esterne che si attivano contro l'Italia ma siamo noi siamo noi gli artefici del nostro declino siamo noi gli artefici del nostro massacro proprio calcio noi noi dobbiamo capire che il sistema calcio Italia va completamente raso al suo ma non non so frasi fatte cioè non deve essere percepita come banalità si le cose adesso vanno così viene facile attaccare attacchiamo no 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 la prima cosa è sui vertici i vertici le teste devono cadere non è possibile che c'è gente che sta lì a mangiare a uffa da una vita e non fa nulla di di proficuo nulla no che porti un domani a una crescita nulla nulla una nazionale che è penosa nell'espressione del calcio penosa ragazzi non so se avete visto le partite anche con la prendiamo una partita dove tu hai vinto come è giocato come è giocato l'Italia con questi quinti con sta palla buttata nel mezzo e via e Dio aiutaci tu è arrivato un gol da calcio d'angolo quindi sta palla buttata in mezzo dal calcio d'angolo l'Italia ha grande fisicità oppure i quinti Bellanova pallone in mezzo pallone in mezzo pallone in mezzo e un mezzo errore Parisi la butta dentro gnonto in qualche modo che è altro un metro e non so quanto altro è riuscito anche lui a prenderla una mezza volta e via oggi item oggi item è l'unico modo sta palla al quinto buttata in mezzo sta palla al quinto buttata in mezzo sul piano del palleggio presi a schiaffi appallonate dalla Norvegia se parliamo di gioco e di palleggio presi a schiaffi dalla Norvegia che con alcune trame sono arrivati in porta noi in porta ci arriviamo con sta palla buttata no dalla 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 parte laterale del campo e via aiutaci tu una vergogna cioè una vergogna non giochiamo non giochiamo a calcio giochiamo un calcio anni 40 anni 50 ma si è rimasti indietro anni luce perché poi è vero non ci saranno questi campioni un tempo no Under 21 c'era Pirlo c'era sicuramente per carità di Dio non abbiamo forse ancora riusciamo a trovare un attaccante perché pellegri con tutto il bene di questo mondo ma chi per lui forse sì ok tutto quello che vi pare ma uno strazio cioè uno strazio perché non sai fare una triangolazione cioè non sai arrivare in porta con delle giocate collettive tramite il palleggio e non penso che i rovella i tonali siano così inferiori no agli altri giocatori ai giocatori norvegesi io non lo posso pensare cioè non lo posso pensare una cosa quindi è proprio la filosofia calcistica innanzitutto proprio scadente quello è proprio scadente perché noi mettiamo ste figure no ste figure qua che non lo so che cosa vogliono in qualche modo trasmettere io non lo so faccio fatica e poi comunque raccogliamo delle brutte figure anche questa è una brutta un'altra pessima figura e ho sentito ripetere 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 devo ripetere devo ho sentito la parola biscotto siamo quelli che pensano al bisogno noi ci biscottiamo da sole ragazzi miei sentivo biscotto prima di stagare ma qua è biscotto ci biscottiamo da soli i cioè veramente i rettroprensie no il una forza oscura che lavora contro l'Italia ma che cosa ma che cosa ma quando ma quando mai ma quando mai io spero di vedere qualche qualcuno che al vertice dica ho fatto danni stiamo facendo danni dobbiamo andare via anzi coste europeo che abbiamo vinto no ha voglia a campare di rendita adesso ha voglia ha voglia ha voglia chissà per quanto ce la meneranno no e invece dovrebbero veramente vergognarsi è uno strazio è veramente uno strazio vedere il calcio italiano ridotto così ai minimi termini noi che comunque abbiamo avevamo abbiamo tradizione no l'Italia cazzo sentivano l'Italia una volta una volta tremavano adesso tremo io quando devo andare a vedere una partita dell'Italia prima tremavano gli altri adesso tremo io e comunque non si può giocare più non si può giocare così ripeto si può anche per perdere ci può anche stare fa parte della cresce l'importante è che tu nelle sconfitte hai acquisito qualcosa e ripeto io ho visto una partita dove arrivavano con la palla tra i piedi in porta la Norvegia noi no noi ci arrivavamo con queste palle buttate in mezzo ripeto oggi hai perso ma con la Svizzera potremmo dire la stessa roba con la Francia è vero ci hanno rubato la partita se andiamo a valutare gli episodi ma sul piano del gioco non c'è proprio confronto con la Francia ma non c'è proprio paragone non lo fate proprio il paragone perché sarebbe imbarazzante signori miei un grande abbraccio fatemi sapere cosa ne pensate voi un grande abbraccio ciao